All'inizio di una grande avventura, all'inizio... Proprio come oggi, il 31 marzo del 1926, nasceva lo statunitense di origini lucane Rocco Entoni Petrone, forse sconosciuto e più, ma ben noto alla comunità scientifica internazionale per aver fatto parte, niente poco di meno che, di quella celebre equip che ha portato l'uomo sulla luna nel 1969. I suoi genitori, infatti, erano originari di Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, e la sua storia è una delle tante ascrivibili a quel firmamento dell'emigrazione lucana che ha saputo farsi strada e onore nel mondo. Il principio della sua carriera è stata di carattere militare, poi la specializzazione in ingegneria meccanica che lo ha portato a collaborare alla progettazione di diversi dispositivi che già lasciavano presagire una sua predisposizione con il mondo dello spazio. Solo nel 1960 approda la NASA e in seguito diventa direttore del programma Apollo che porta appunto l'uomo sulla luna con la conquista anche personale di importanti e apicali posizioni dirigenziali. Il progetto Matera Basilicata 2019 non mancherà di celebrarlo. In particolare, in occasione dell'iniziativa Matera 2019 è capitale per un giorno, esattamente 50 anni dopo, il 12 luglio 2019, il comune di Sasso di Castalda lo farà con convegne e performance musicali. Anche la capitale europea della cultura lo rievocherà il 20 di luglio nell'evento Cosmic Gives di Apollo Soundtrack con musiche realizzate da Brian Eno, concesse in esclusiva dalla NASA ispirate allo spazio. Oggi penso ai sogni del futuro come a dei sogni, ma i sogni di oggi potranno essere la realtà di domani.